Amici e amiche della voce del diavolo del canale YouTube Milan Elo, ben ritrovati. Oggi una digressione, una spiegazione, se spiegazione esiste. Parliamo del derby. Parliamo del perché per me il derby è la partita più importante dell'anno, le partite più importanti dell'anno e perché io non le giocherei mai queste partite. Non le giocherei per un motivo molto semplice. Se le vinco, chiaramente ho felicità, ma normalmente è una felicità che dura poco, che dura fino alla successiva partita. Se lo perdo, disastro. Se lo perdo, disastro e hai voglia a vincere magari qualche partita successiva, non serve a niente. Quindi la sofferenza è nettamente maggiore alla felicità. Questo è il motivo per cui non lo giocherei. Ho tantissimi ricordi dei derby, ovviamente, derby belli, derby brutti, derby storici, come i due di Champions, ricordo che noi dopo aver vinto il derby di Champions l'abbiamo poi vinta la finale. Non siamo... abbiamo fatto una finale poi giocata pur bene ma persa a testa alta. Ma quelli mi ricordo bene. Mi ricordo il 3-2 con due gol di Seedorf. Mi ricordo il magico gol di Hathaway, il gol di Hathaway su cross di Virdis. Quello fu... ero lì a due metri dalla porta, quello stacco di Hathaway su Collovati. Ero lì attaccato, sentì proprio il fruscio della palla che faceva frrrr ed entrava nella rete. Un'emozione violenta. Mi ricordo perfettamente i due gol di De Vecchi che consentirono al Milan di pareggiare. Credo 2-2 a quel derby che poi ci portò alla stella, alla prima stella. Ricordo questi positivi ma ricordo anche negativi. Ricordo uno nell'89 in cui Zenga si arrese. disse a Gullit per favore smettetela lì perché non riusciamo a starvi dietro. Potrei parlarvi del 6-0. Però ci sono anche gli aspetti negativi. Gli ultimi derby, inutile parlare, sono stati veramente brutti, molto brutti. Quindi è molto importante adesso non tanto il risultato quanto come ci comporteremo adesso nei prossimi derby. Ma me ne ricordo uno tantissimi anni fa. Era un ragazzo, ero nella Fossa dei Leoni, secondo Anello. Una volta si entrava allo stadio, non è come adesso che entri 15 minuti prima e hai il posto assegnato. Prima c'erano i gradoni di cemento, freddi, faceva sempre freddo. Si entrava, ci si trovava all'apertura dei cancelli. I cancelli aprivano alle 10 e mezza, alle 11. La partita è alle 2 e mezza. Mi ricordo un derby con un'acqua incredibile. Tre ore e mezzo sotto l'acqua su questi gradoni. Pronti via, partiamo. Il portiere di Milano è una pizzaballa. Ho sentito benissimo su un cross dire MIA! E pizzaballa non la prese. E fece gol l'Inter che vinse il derby. Ne ho tantissimi ricordi. Una volta, per dirvi la sofferenza, in un derby che pareggiò il Milan con un gol di Vinicio Verza, mi ricordo che ero in mezzo a un gruppo di interisti, perché era un Inter Milan, e quando mancava, quando dicevano le formazioni, ecco, c'erano le formazioni, c'erano le pubblicità famose, pellicceria, Annabella, Estintori, Meteor, quelle robe lì, mi ricordo che la parte sinistra del mio corpo cominciò a ballare, non riuscivo a controllare, ho detto, qui sto prendendo un infarto, ero giovane, un infarto, però, sinceramente, ballava o non ballava la parte sinistra, io ho continuato a vedere la partita, a soffrire, poi a divertirmi col gol di Verza. Ecco, sofferenza, secondo me, è la parola vera nei derby. Ma perché? Perché non sopporto l'Inter? Perché non sopporto gli interisti? Ora cerchiamo di precisare. Perché io sopporto maggiormente la Juve? Non è che voglio bene la Juventus, ma è diverso, è diverso. La Juventus la posso criticare, forse la critico, vedo, la società è una roba pazzesca, trovo assurdo che non cambino proprietà dopo un secolo di robe tremendi che hanno fatto in tutti i campi, ma non sono particolarmente interessato la Juventus, invece con l'Inter ho la vera rivalità. Ma perché l'Inter? Perché per me è una squadra che è sempre stata aiutata, è sempre stata supportata dall'intelligenza, dalla magistratura. Mi ricordo la famosa partita col Mönchengladbach dove venne distrutta l'Inter e si trovò un cavillo per rigiocare la partita, finì 7 a 1 e venne rigiocata la partita perché una lattina aveva sfiorato un giocatore, non si è messo niente, e venne ripetuta. Cioè questa loro capacità enorme nei tribunali di uscirne sempre indenni, mentre gli altri, qualche volta giustamente, qualche volta ingiustamente, ma comunque regolarmente condannati, l'Inter l'ha sempre scampata. Ecco, questa potenza al di fuori del calcio mi ha sempre disturbato, tanto. Gli interisti sono insopportabili, sono insopportabili chi? Attenzione, chi? Quando io parlo di interisti che non li sopporto, non parlo certo dei tifosi che vanno allo stadio con la famiglia, dei ragazzi, delle ragazze, con la sciarpa, questi sono tifosi, non ho niente contro il tifoso interista, tifoso che va e a inneggiare la propria squadra, assolutamente niente. È un tifoso, un tifoso come me. Sono pieno, ho tantissimi amici, anzi, io penso di avere più amici interisti che amici milanisti, sinceramente. Ma sono ovviamente in ottimi rapporti, ci sono gli sfottò, che è il bello, ma nient'altro, assolutamente. Che non sopporto, che non sopporto, che non sopporto, sono quelli che se fossimo in politica direi i radical chic, quelli che hanno quella cavolo di area, di area di superiorità, di superiorità, questa finta cultura, questa intelligenza, come dicevo prima, questa gente che va nei talk show e con la puzza sotto al naso, e i Bertolino, e i Severnini, e non lo so, un sacco di attori, lo stesso sindaco di Milano, Sala, questa gente qua, avete capito, gente, come si chiama quello? Bonolis, Bonolis, voi ditemi, se c'è un omologo di Bonolis, milanista, non c'è, non c'è, perché c'è rispetto, invece, interisti, questi interisti, non hanno rispetto, non hanno rispetto, e hanno questa superiorità, che nasce da che? Da che nasce? Da che cosa nasce? Vogliamo vedere il museo di casa Milan col museo dell'Inter? Vogliamo vedere un box, perché le coppe dell'Inter ci stanno in un box rispetto a un museo che è il secondo museo più visto di Milano? Ecco, fate come volete. Un solo, un solo tifoso dell'Inter, però, che fa parte anche lui dell'intelligenza, però mi era di una simpatia totale, voglio ricordare l'avvocato Peppino Prisco, che era pungente, era cattivo, però era, mi faceva godere, mi faceva godere, aveva delle battute pronte, delle battute pronte, subito così gli venivano spontanee, perché c'era questa enorme passione, l'enorme passione che si traduceva in cattiveria, ma una cattiveria intelligente. Quindi, grande Peppino Prisco, invece quelli alla Bonolis, alla Bertolino e in company, sono veramente insopportabili, non li sopporto, e io vorrei che finalmente venissero fuori tutte le magaglie dell'Inter, che finalmente la guardia di finanza si presentasse alla sede dell'Inter e a fare un controllo serissimo su tutti i conti, tutti i conti dell'Inter e facesse una relazione così. Vorrei vedere che cosa succederebbe se poi questa relazione sia per quanto riguarda le robe della guardia di finanza, sia la relazione venisse trasmessa con una PEC, quindi non si può dire non aver ricevuta, alla federazione, che cosa succederebbe? Perché sappiamo tutti la situazione, ma comunque è inutile, l'Inter è in una situazione di debito pazzesco, ha comunque ancora, dopo aver migliorato moltissimo, comunque un grosso rosso di bilancio, ma nessuno dice niente alla fine né in Italia né all'estero, quindi va bene così. Ma non è questo il discorso, il discorso è il derby, il derby la passione, il derby l'amicizia con tanti amici, il derby la sofferenza. Questo, questo è il mio derby, ripeto, non lo giocherei, farei a meno, non si può fare e allora se proprio dobbiamo giocarlo, se proprio dobbiamo giocarlo, almeno cerchiamo di vincere. Questo come l'abbiamo vinto tante volte, ma come anche obiettivamente l'abbiamo perso tante volte. Due squadre, due tifoserie, devo dire che si rispettano molto, perché quando si va a San Siro a vedere la partita, sia antistanti in piazza Axum prima di entrare nello stadio, sia nello stadio, devo dire, c'è il massimo del rispetto e in questo Milano obiettivamente si distingue da tutte le altre le altre città e questo mi fa davvero davvero contento. Ciao a tutti!